Prossimo round Cambio ruolo Modalità Cerca e distruggi Distruggete l'obiettivo Abbiamo la bocca Siamo la scuola Influenza E' so Prossimo Prossimo Ma Minuto 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 Non Quasi 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 Completa la missione Sei l'ultimo rimasto Abbiamo perso questo round Ma non è ancora finita Preparatevi al prossimo Cambio ruolo Modalità cerca e difendete l'obiettivo Brassare il granato 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 Il tempo è quasi scaduto! Abbiamo perso questo round, ma non è ancora finita! Preparatevi al prossimo! Intervallo! Modalità, cerca e distrugge. Distruggete l'obiettivo! Abbiamo la bocca! Dio! 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 OOOH! Pricrò me! io devo prezzaradire Grazie a tutti 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 Preparatevi al prossimo round Cambio ruolo Modalità Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti